Il nuovo portabandiera di LG vanta un display davvero sorprendente e promette prestazioni elevatissime. Di cosa sto parlando? Ma naturalmente di LG G6. Ve lo racconto tra poco, qui su Tech Princess. Questo G6 è l'ultimo arrivato di casa LG, il nuovo top di gamma dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 821 di 4GB di RAM e 32GB di memoria interna, espandibile fino a 2TB tramite microSD. A stupire però non è solo quello che troviamo sotto la scocca. LG G6 infatti colpisce in primis per lo splendido display da 5,7 pollici full vision. A differenza degli altri smartphone questo G6 presenta un'insolita proporzione, 18 noni invece dei classici 16 noni, che ha permesso all'azienda di avere uno schermo molto grande senza però aumentare eccessivamente le dimensioni del telefono. Questo lo rende davvero facilissimo da tenere in mano, senza però rinunciare a nulla. Il display inoltre supporta anche l'HDR10, ossia una tecnologia che permette di sfruttare una gamma di colori più ampia e una luminosità maggiore, con neri finalmente realistici e colori vividi. Guardare film e video con LG G6 sarà quindi un vero piacere. Il più grande punto di forza però di questo smartphone è la sua fotocamera, versatile e dalle molteplici funzioni. Sul retro infatti troviamo due sensori da 13 megapixel, uno dei quali sfrutta un'ottica grandangolare da 125 gradi per permettervi di catturare una porzione di spazio ancor più grande. Ad esempio non dovrete più allontanarvi dai monumenti per poterli fotografare in tutta la loro maestosità, ma c'è una novità anche per quanto riguarda la fotocamera anteriore. Lo vedete questo? Sì, è un selfie stick. Ecco, buttatelo via. Non servirà più perché sulla parte frontale troverete una fotocamera da 5 megapixel con un campo ampliato di 100 gradi, così fare i selfie di gruppo sarà facilissimo. Non dovrete più chiedere agli amici di stringersi o di spostarsi o di trovare un altro luogo in cui mettersi per farci stare tutti. Sullo smartphone trovate inoltre una funzione chiamata fotocamera quadrata che è pensata per i più giovani tra voi. Grazie ad essa potete scattare più foto e video e poi creare delle originali e divertenti composizioni da condividere sui vostri social preferiti. Insomma, sembra proprio che questo LG G6 sia stato progettato per soddisfare le esigenze di tutti. Il nuovo portabandiera di LG sarà disponibile a partire dal mese di aprile al prezzo di 749 euro. Io vi ricordo di seguirci anche sul nostro sito www.techprincess.it e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!